Ciao amici, come state? Ieri era la giornata mondiale dei diritti umani, ho fatto un breve video a proposito che trovate qui. Ah mannaggia Simona mi sono persa la ricorrenza! Non c'è problema perché tutto dicembre è considerato il mese dei diritti umani e quindi ci sono moltissime occasioni per coinvolgersi e poi il 2018 sarà il settantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti umani del 1948 e ci sono moltissimi eventi in preparazione per tutto l'anno che ormai è in arrivo. Tra l'altro in questa giornata vengono tradizionalmente attribuiti due più importanti riconoscimenti in materia, il premio delle Nazioni Unite per i diritti umani a New York, e il premio Nobel per la pace a Oslo. Restiamo sintonizzati con questi grandi personaggi e il loro impegno a livello mondiale. Ma riguardo al 2018 veniamo ad argomenti più leggeri ma non meno importanti. Manca sempre meno al Capodanno e prima ancora le feste di Natale per superare il periodo senza stress e restare in forma e soprattutto senza ingrassare. Stavo per dirlo. Per rimanere in forma non perdetevi nessuno dei video di questa settimana. Sto anche preparando un ebook su come dimagrire o non ingrassare durante le feste e lo pubblicherò prestissimo. Come sempre per seguire tutti i miei consigli basta iscriversi al canale. È facile con un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Simo grazie che ce lo ricordi ma ormai lo sappiamo fare tutti non è una novità. Per qualcuno magari sì. Anch'io a volte mi dimentico come funzionano queste cose tecnologiche. Voi no? Ah sì è vero. Io sì. Per fortuna c'è Baby Squaletto. Lui ha un tipo digitale, sa tutto. A proposito di novità. Da qualche giorno YouTube mi ha dato un nuovo strumento per comunicare con voi. Se andate nella home page del canale trovate una nuova scheda. Si chiama community. E in questa scheda vi posso mandare video, foto, fare sondaggi e voi mi potete rispondere come sempre commentando. Posterò qualcosa ogni giorno. Andatela a vedere. Ah bello non vedo l'ora sarà interessante sicuramente con i tuoi consigli. Senti ma questa settimana che video fai? Sono video speciali per le feste ma prima di dirvi tutto come sempre vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora vediamo insieme come bruciare i grassi durante le feste e destreggiarsi tra pandori, panettone, pranzi e cene vari. Sì che qui a forza di slalom tra i dessert mi sembra di essere ai mondiali di sci. Venerdì una mia ricettina golosa ma priva di sensi di colpa senza zucchero e senza latte. Va bene sempre. Sabato è serena tenerci in forma con un allenamento completo per riuscire a fare tanto esercizio mirato in poco tempo. Come piace a noi. Ecco ecco di quello avevo bisogno. E domenica vediamo la classifica dei cibi di Natale più traditori. Quelli che sono buonissimi ma fanno ingrassare senza pietà i cibi da bollino rosso. Mi viene già da soffrire. L'importante è avere le alternative buone ma sane. Ora condividete questo video con i vostri amici e nei commenti scrivetemi come sempre i progressi che ottenete con i miei consigli. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Appena esce un nuovo libro.